Come l'anno scorso, primo gol stagionale ufficiale, a fine non siamo le birindelli. Sì, sì, sì. Come ho detto prima sotto, speriamo sia di buon auspicio. Purtroppo l'anno scorso mi sono fermato solo a quello. Speriamo che quest'anno di ripetersi anche in campionato. Ripetersi a livello personale, un po' più impegnativo ripetersi a livello di squadra. L'anno scorso il Monza è stata una delle rivelazioni della Serie A. Confermarsi però è sempre più complicato. Certo, ovviamente ripetersi a livello personale e con l'ambizione di migliorarsi e fare meglio. E lo stesso anche come risultati di squadra. Ovviamente confermarsi non è facile, non è facile neanche migliorarsi e cercare di alzare la sticella. Però l'ambizione è alta, sappiamo di essere forti. Poi ogni campionato è diverso, gli episodi poi fanno le differenze, quindi vedremo come andrà. Ma come sta nascendo questo nuovo Monza? Qua ci fanno correre, ci fanno sudare, però si sta bene. Il gruppo è bello, è fantastico. Quindi alla fine passa anche bene, veloce il ritiro. La prima è una curiosità, cosa ti ha detto Gagliani qui sotto? No, mi ha detto che siccome l'anno scorso hai fatto gol, quest'anno ti sei ripetuto, vedi di segnare però anche il campionato perché giustamente non posso fare il gol solo in amichevole, è la prima amichevole dell'anno. Adesso questo lo dico io, l'anno scorso primo gol di Birindelli, stagione comunque da incorniciare, quest'anno ancora gol di Birindelli, alziamo la sticella, Europa? No, è troppo presto per parlare. L'obiettivo, come ho detto prima, è la salvezza. Poi ognuno di noi ha la voglia di migliorarsi e fare qualcosa in più. Vedremo dove potremo arrivare. Sembrate già in buona condizione oggi. Abbiamo visto tanti movimenti, anche da chi è entrato dopo. State bene, no? Ancora presto per dirlo perché sinceramente ogni giorno comunque facciamo spesso dei doppi, gli allenamenti sono intensi e diciamo che cerchiamo di far correre più il pallone che noi. Non so se sei visto la tribuna perché comunque siamo un po' pesanti adesso. Come vi state trovando qui in Alta Valle Camonica? No, bene. La struttura c'è tutto, c'è palestra, il campo è bellissimo, l'albergo comunque ha tutti i comfort. Poi alla fine l'importante è stare bene fra di noi, anche se ci dovessero portare in una catapecchia comunque saremo bene lo stesso.